Dal centro-destra al centro-sinistra siamo a guerre stellari, così Umberto Ambrosoli, candidato presidente della regione per la coalizione del centro-sinistra, ha risposto a margine della presentazione della lista del centro popolare Lombardo riguardo a quello sostenuto da Roberto Maroni sul fatto che la sfida delle elezioni regionali sia una sfida definitiva. Ambrosoli incassa l'appoggio di un'altra lista, quella del centro popolare Lombardo, raccoglie tra gli altri Valerio Bettoni, Enrico Marcora, Franco Spada, un'aggregazione che si è formata su una comune analisi della situazione regionale in vista delle elezioni e con gli obiettivi di realizzare una svolta nel governo della Lombardia e di non concedere alla Lega di dominarla. Due anime apparentemente diverse, quella del patto civico di Ambrosoli e del centro popolare Lombardo, in cui sembra anticipata comunque e confermata l'idea di una collaborazione tra il centro e la sinistra democratica. Il progetto del centro popolare Lombardo è iniziato quando è stata annunciata la mia candidatura. Le proposte che noi abbiamo avanzato, non semplicemente di discontinuità ma di contenuti, hanno attratto l'attenzione di chi è sensibile ai bisogni dei nostri cittadini. E ha attratto l'attenzione perché dà risposte a questi bisogni non teoriche, non astratte, non in termini meramente di promesse, ma di attenzione. A unirci cioè sono le capacità dei nostri valori di rispondere all'esigenza di presa in carico, non dal punto di vista sanitario ma dal punto di vista globale, sociale, economico, dei cittadini lombardi. E questa è la visione che porteremo al governo della regione Lombardia. Il mondo centrista può e deve aiutare Ambrosoli a conquistare la regione Lombardia e quindi noi siamo quella parte di centristi, di moderati che credono profondamente in Ambrosoli e vogliono fare in modo di essere protagonisti nella gestione e nella amministrazione della regione Lombardia. Unioni civili, legge sull'aborto, come riuscirete ad andare d'accordo con Ambrosoli? Io credo che con i tanti cattolici che ci sono all'interno del Partito Democratico troveremo le soluzioni interessanti per la regione Lombardia, ma soprattutto sui temi etici troveremo degli accordi profondi. Non c'è nessun problema, ritengo che con gli amici Pizzul, con gli amici Borghetti, con le tante persone che sono all'interno del Partito Democratico, troveremo delle soluzioni nell'interesse dei Lombardi.